Buongiorno a tutti e buona Pasqua, ciao ragazzi, cercheremo di sbrigarci per non perdere tempo in questo giorno di riposo, di relax, in serenità con le nostre famiglie. Lazio 1 Juventus 0, pagelle, con che voglia eh? Vi ho parlato di quella che dovrebbe essere la situazione legata ad Allegri nelle prossime ore, ve ne ho parlato stamattina alle 7, trovate comunque il video qui sopra nelle schede. Se ancora non l'avete visto, è come sempre, prima di iniziare, forza Juventus. Ad Allegri il voto non lo do, lo sapete, ho fatto questa scelta qualche settimana fa, continuo a dire che la formazione iniziale fosse sbagliatissima, veramente riesumare De Sciglio e buttarlo nella mischia così è stata una cosa che secondo me non ha nemmeno aiutato il ragazzo. Così come non ha aiutato Sekulov a entrare, un giocatore che praticamente quest'anno era in B, in Serie B è tornato a gennaio alla Juventus dopo un prestito in cui ha giocato una sola partita in Serie B. Cioè ha fatto lo stesso numero di presenze tra Juventus e Cremonese quest'anno tra Serie A e Serie B. Boh, va bene, c'era quello, d'accordo, però tieni chiesa qualche minuto in più. Non togliere, non lo so, non togliere Ken, non togliere Cambiaso, prova a girare qualcosa. Ormai io ho perso, ho perso molto le speranze, perché le scelte non mi sembrano andare in una direzione sensata, a livello comunicativo non mi sembra andare in direzione sensata, a livello di preparazione non mi sembra andare in direzione sensata. Non vedo niente da salvare, niente da salvare in questo momento della Juventus, assolutamente nulla. Cinque e mezza Scesni, che ha parlato molto bene ai microfoni, ma ha gestito molto male con i piedi quel pallone su Pedro, per fortuna poi non è successo niente, per il resto niente da segnalare. Il gol che prendiamo all'ultimo secondo non è colpa del portiere, ma tanti giocatori della Juventus all'interno dell'area di rigore è praticamente soltanto Marusic che va a saltare. Qualcosa che francamente non mi spiego. Voto sei a Rugani, che secondo me è il migliore in campo, ed è il migliore in campo perché salva quel tiro di Luis Alberto. Quel tiro sarebbe entrato, sarebbe stato gol dell'1-0 qualche minuto prima. Certo che se ti metti a dire migliore in campo a un difensore centrale che prende 6, capisci quello che è stato il resto della partita. Capisci che tipo di partita ha fatto la Juventus. Una partita francamente estremamente insufficiente. Voto sei pure a Bremer, che anche lui è a livello di Rugani dal punto di vista della prestazione. Due occasioni sono sue, testa quadrata. Diciamo così, forse un pelo più convincente Rugani, forse da 6 più Rugani, ecco, diciamo così. Però bene o male siamo lì. Ma sono due difensori centrali migliori della Juve. E questo ci fa capire che tipo di prestazione abbiamo fatto. Danilo 5,5, io non so cosa sia successo al capitano. Ha completamente esaurito la benzina. Non ne ho idea, non ne ho idea. Però sicuramente non è più il Danilo che abbiamo visto in questi anni. O comunque nel recente passato della Juventus. Serve ritrovare anche lui. Perché tanti errori da parte sua, da parte di Rabiot. Si iniziano a sbagliare anche quei giocatori che sono i senatori e che in questo momento dovrebbero cercare di trascinare la squadra. È finita, eh. Finita, forse davvero, però. Però questa stagione non è ancora finita. E dobbiamo farla finire nel migliore dei modi. 8-5, De Sceglio. Boh, secondo me gli fai anche un dispetto a buttarlo nella mischia in queste condizioni. Non c'era veramente bisogno. Cioè, metti Gatti, terzino destro, se vuoi fare il 4-3-3, lascia stare De Sceglio, poveraccio. Metti Healing, fallo giocare alto nel tridente. Cioè, gli opzioni ce n'erano. Nonostante l'infortunio di Alessandro, l'influenza di Kostic, i muscoli di Milik e la squalifica di Vlaovic. Le possibilità ne avevi. Abbiamo voluto fare qualcosa di molto strano e poi lo togliamo a fine primo tempo. Ci siamo anche rimangiati tutto. Due cambi ce li bruciamo subito. Cioè, è ovvio che poi lui non aveva a disposizione la partita intera. Io veramente certe cose non le capisco e non riesco a comprenderle. 8-5 a Miretti. Ha giocato la partita Miretti? Cosa vi ricordate di Miretti in questa partita? Io niente. Non mi ricordo nulla se non la sostituzione. Non ho nemmeno capito perché è titolare al posto di McKennie. Sì, in realtà l'ho capito e cioè che McKennie è tornato tardi alla Nazionale. Anche questo ha detto Allegri, però... Cioè, in questo momento qui... Guardi, lo stato di forma dei giocatori è quelli più affidabili. Miretti oggi non è uno di quelli più affidabili o di quelli più in forma. Quindi va... Boh... Cioè... Non capisco anche questo continuo a far ruotare i giocatori. Cioè, oggi abbiamo fatto turnover praticamente. Miretti è stato impalpabile in campo. 8-5, un fantasma. 8-5 a Locatelli. Fa il difensore centrale. Io non ho altro modo di definire i compiti di Locatelli. Fa il difensore centrale. Aggiunto, è un difensore in più. Oltre a Bremer, oltre a Rugani. L'abbiamo piantato là dietro. Fatto le tende. Non viene mai via. 8-5 a Rabiot. Sofferto tantissimo questa partita. Non sembra neanche lo stesso giocatore che l'anno scorso aveva fatto quella stagione lì. Tornato ai livelli pre di quella stagione. Io questa estate vi dicevo, non è scontato che Rabiot vi faccia ancora la stessa stagione. Non è scontato per niente. Eh, ma ha raggiunto i livelli di maturità. Invece no. Invece no. Voto 5-5 a Cambiaso. Perché ha sofferto anche lui tantissimo. E se inizia a soffrire anche Cambiaso vuol dire che siamo alla frutta. Perché è uno di quelli più positivi in stagione. Cioè, quel cross. Non so neanche come chiamarlo. Quel pallone che tocca e passa tutta l'area. Nel secondo tempo, nel momento in cui la Juve sembrava avere trovato un po' di energie. E poi poco altro. Sostituito. Allegri forse è nemmeno contento della prestazione di Cambiaso. Lo accompagna fuori. Gli parla. 5-5. Voto 5-5 pura Chiesa. È quello che ci prova di più. Un paio di occasioni. Uno a un colpo alla biliardo. L'altra un po' più forte. Tutte e due nel primo tempo. Poi sostituito. Cioè, se non riusciamo nemmeno a metterci in idea che queste partite qua dobbiamo avere il coraggio di vincerle. Quindi magari tenere insieme Chiesa, Ildiz e Ken. Ragazzi non andiamo da nessuna parte. Mi dispiace. Cioè, non andiamo da nessuna parte. Serve per vincerle partite. Per arrivare a conquistare dei risultati. Banalmente per qualificarsi da Champions. Se non tiri fuori le palle. E non hai il coraggio di fare anche quel qualcosina in più. Dal punto di vista offensivo. E tenere in campo tre giocatori offensivi. Piuttosto che fare un tridente con un terzino. Non vai da nessuna parte. Ed è giusto che tu non vada in Champions. Poi a un certo punto. Se continui così. Giusto che tu non vada in Champions. Se non hai il coraggio di provare a vincere una partita. Provare a vincerla una partita. Ho fatto 5 e mezzo a Ken. Che, poverino, è anche uno dei meno peggio. Però quando non ti arriva mai il pallone. E devi valutare un attaccante. E come fai? Ken ha anche gestito abbastanza bene la palla. Però Ken ha fatto a sportellate. Ha fatto ad allunghi. Non ha fatto l'attaccante del gioco del calcio. Sembrava uno messo lì. Buttato lì. Stop. Cioè. Dal punto di vista offensivo. Questa partita. In cosa si è preparata? Ken che gioca per forza di cose. Perché c'è solo lui. Cioè. Come hai provato a dire. Ok. C'è Ken. Sfruttiamolo in questo modo. In quest'altro. Qui è forte. Qui è debole. In niente. In niente. Preparazione zero. Cinque e mezzo Ken. Le sostituzioni. Entra McKennie. Non aggiunge niente. Nel caos. Nell'anarchia totale della Juventus. Che torna nel 3-5-2. Dopo che l'aveva abbandonato. Quasi per sbaglio. Quasi per finta. Perché. Era comunque un 3-5-2. Mascherato. Camuffato. McKennie non fa niente di più. Ealing entra. Boh. Veramente boh. Anche lui. Io sono dell'idea che Ealing. Se lo facevi giocare a titolare. Nel tridente con Chiese Ken. Magari qualcosa di più poteva darti. Perché potevi giocartela con Ealing. Alto a sinistra. E Chiese alto a destra. Oggi che hai deciso di fare il tridente. Invece no. Weha. Con Cambiaso poteva fare il terzino. Tra l'altro. Non dovevi neanche buttare dentro il resciglio. Weha. Voto 5. Che lui. Lo metti. Non si capisce. Cosa fa? Weha. Boh. Avanti e indietro. Albella le statuine. Hildiz voto 5. Non ha fatto la differenza. Non è stato in grado di farla. È entrato. Non ha aggiunto niente. Perché non ha aggiunto niente. Oggi Hildiz. E secolo fu voto 5. Perché. Poi. Io ripeto. Non so neanche. Se uno. Come condesciglio. Questi giocatori. Poi li mette anche un po' in difficoltà. Forse si poteva anche evitare di fare tutti i 5 cambi. Cioè. Non è obbligatorio fare tutti i 5 cambi. Forse puntare un po' di più su quelli che c'erano. Cercare una soluzione differente. Cercare di avere un po' più coraggio. Giochi con Cambiaso terzino da una parte. Danilo dall'altra. tra Hildiz Chiesa e Ken. E poi. Se vuoi fare i cambi. Hai UEA. E magari Sekulov da mettere come esterni. Ma se tu metti Sekulov nel 5-4-1. 4-5-1. Quello che era. Il chiedi di farlo esterno. Uno che. Ha fatto la panchina in Serbi fino adesso. Ma poi cosa vuoi pretendere? Davvero. Cosa vuoi pretendere? C'è bisogno di metterlo. Non è necessario. Mettine un altro. C'hai Nicolussi. C'hai Gatti. C'hai Jalò. A questo punto. Magari sta bene anche lui. Dopo il crociato. Non lo so. Non ho ne ho idea. Però. Metticene un altro. Metticene Nicolussi. E metti un centrocampista in più. Cosa ti vuoi dire? Mettiamo uno che. Se era non c'ha mai giocato. E chiedi di fare l'esterno. La diagonale. Al novantesimo. All'Olimpico. Che è un attaccante. Tra l'altro. Un giocatore offensivo. Probabilmente non di livello assoluto. Perché se no. Serbi e non avrebbe fatto una presenza nella Cremonese. Poi fa la flettata. E cosa dice? Colpa sua. Colpa di Sekulov. Allora. Juventus è una vittoria nelle ultime nove partite. Sette punti nelle ultime nove partite. Perché Sekulov non fa la diagonale. Perché Nonge fa il rigore. Perché Tizio e Kai. Semprogno sbagliano quella situazione. Però non è quello. Non è quello. Francamente sta diventando. Anche noioso discutere di queste cose. Perché. Far le pagelle di una partita. Come l'asse 1 Juventus 0. Esattamente come farle. Di Juventus 0 Genoa 0. Una noia mortale. Perché noi la fase offensiva. Non abbiamo idea di cosa sia. Per niente. Non la facciamo. Non siamo in grado di fare la fase offensiva. E questo è un dato di fatto. Mentre si muove un po' tutto. Io vi rinnovo gli auguri di buona Pasqua. Fatemi sapere la vostra questione nei commenti. E vediamo cosa succede. Perché poi la lastra la riaffrontiamo martedì. E ci sarà da piangere. Ciao.